Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori controller Wii. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi check out link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la stoga controller a distanza. Chi non capisce quale controller Wii acquistare può optare per questo modello di stoga che comprende sia il telecomando che il non check. In genere le console Nintendo non reagiscono in modo efficace ai gadget di terze parti, ma secondo gli utenti questo controller Wii rosso viene riconosciuto rapidamente e senza problemi, funzionando perfettamente con tutti i giochi con cui può essere utilizzato. La tariffa molto economica lo rende appropriato per chi cerca un paio di controller in più per i videogiochi con gli amici o per far giocare i bambini senza preoccuparsi che possano distruggere un oggetto iniziale. Al numero 4, abbiamo Nintendo Wii non check controller. Tra i migliori controller Wii del 2021, non poteva mancare l'originale non check Nintendo, una necessità per tutti i possessori della console. Il gadget nasce dall'unione tra un controller di movimento e un gamepad, grazie al quale è possibile eseguire una serie di azioni in diversi titoli Wii come Super Mario Galaxy o The Legend of Zelda, Skyward Sword impossibili da compiere con un normale gamepad. Per questo motivo, chi necessita di un controller aggiuntivo o magari ha acquistato una Wii senza dispositivi, avrà la possibilità di ottenere il massimo divertimento con questo gadget. Meno. Al terzo posto, abbiamo la Powe Lid Wii controllers terzo. A chi non piace Mario Kart. I giocatori online più esperti possono consigliare di utilizzare un gamepad, ma per giocare ai videogiochi con gli amici sul divano o da soli, non c'è niente di più divertente di un bel volante. Questo prodotto specifico di Powe Lid è un'ottima opzione per risparmiare sui prodotti della casa Nintendo offerti online, solitamente piuttosto costosi. Entrambi i volanti presenti nella confezione sono realizzati da terze parti, sono molto comodi e hanno spazio per inserire il non c'è qui, senza il quale non potranno funzionare. Il design ricorda molto quello iniziale. Al numero 2, abbiamo il Nintendo GameCube 2312666 controller. I fan di Super Smash Bros. apprezzeranno questo controller firmato con il logo del gioco di combattimento Nintendo. Il titolo, nonostante sia abbastanza istantaneo, richiede molta pratica per essere immerso ad alti livelli, non a caso per molti anni si è ritagliato un ottimo posto sul pianeta dei videogiochi competitivi. Il gamepad in questione è stato realizzato per l'ormai dotata console Nintendo GameCube, tuttavia è compatibile al contrario sia con Wii che con Wii U tramite l'apposito adattatore. Sostanzialmente il controller non presenta alcuna differenza rispetto a quelli base GameCube e come questi vanta un'ottima ergonomia e una comoda posizione dei tasti. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Wii U, Pro Controller, nero. Il Wii U Pro Controller è tra i più venduti online, in particolare tra i giocatori più accaniti che vogliono ottenere la massima precisione nel giocare ai loro titoli preferiti. Normalmente il Pro Controller per console Wii U si adatta molto bene a videogiochi di combattimento, sportivi o d'azione, grazie agli stick analogici e alla comoda posizione dei tasti simile a quella dei classici Joypad di altre console. La forma ergonomica lo rende estremamente comodo da impugnare e in termini di dimensioni è sicuramente più utile dallo schermo con i comandi della console. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.